Ciao a tutti ragazzi sono Cavani e benvenuti a questo nuovo incredibile video Oggi signori siamo sulla seconda parte diciamo se così si può definire dell'evento di Verdansk che esplode Sono già usciti due video della prima parte che potete andare a vedere nella in alto a destra Che in realtà da questo lato credo in cui c'era appunto la parte di Verdansk con gli zombie Credo che in realtà la parte con gli zombie l'avete già vista tutti Qua in questo momento invece siamo nella seconda parte Poi non so se uscirà un'altra parte che si chiamerà effettivamente seconda Però siamo appunto su Rebirth Da Rebirth da lontano si vede si è visto prima di tutto una palla rossa Che poi è diventato un fungo nucleare che chiaramente è Verdansk che esplode Tutto questo in un'ambientazione notturna e una Rebirth Island leggermente rivisitata In cui troviamo un edificio diverso che è la Construction Site Quindi potrebbe essere una Rebirth Island futura Perché effettivamente normalmente siamo sempre stati abituati a vedere qualcosa che si stava costruendo Qua c'è effettivamente qualcosa di costruito e finito Ci saranno sicuramente altre variazioni Per esempio sul tetto di Prison non c'è il buco Ma c'è una finestra che va rotta sparandogli Ci sono dei vetri proprio Li può sempre entrare ma non è il buco distrutto che le abbiamo abituati a vedere Vi lascio quindi due o tre partite se non so ancora quante le metterò Su questa per virgolette nuova modalità Ci becchiamo al prossimo video Non faccio nemmeno l'auto vi ricordo però che sono in live tutte le sere su Twitch Trovate il link in descrizione TFZ trattino basso Cabana Bella 15 minuti dopo la distruzione di Verdansk Rebirth Island La notte regna Comunque è stranissimo il fatto che non ci sia il buco sul tetto Perché effettivamente il buco normalmente arriva da un missile Ma in questa partita c'è un missile che spacca qua Sono due caccia tipo sia lì che qua Ci sono più di area Non vengo neanche io Possiamo farlo d'out? Che il lag ridicolo Arrivo prendo l'uplo Arrivo Ok 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 Buono che lag Io provo a pushare quelle Proprio frega cazze Con sensazione è sceso Sceso Attenzione UAV rientro portato Stato roto a terra Occhio Alex che non li vedo Ho fatto uno Non ho fatto un altro Non mi ha dato team magnetato Ok uno che a terra Eh non ho il sensore Ma lagga troppo Questo qua c'è lo scudo Ma che cazzo Dai Sono dietro a dentro Dai sì sono dietro a dentro Ho fatto uno Un altro è qua dietro sempre Fatto anche questo C'è un lag veramente impressionante Che cazzo è sta roba Hanno costruito il coso Ma ragazzi è un Un rebirth È evidentemente un rebirth Cioè un post Là era il sito di costruzione E adesso è Lì sopra c'è gente Oh cazzo c'è uno che mi mira da la torre No non mi sta mirando L'ho fatto A terra A terra pure dentro La casa vai Pusciamoli Pusciamoli Guarda c'è uno che mi sta mirando Da nova Vatti due Ah no C'è uno in teoria Ci bussano eh Ci stanno pushando Sono in due Sono in tre In tre Stanno salendo Stanno salendo Sono in quattro Full team eh A terra uno Fatto 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 Bravo bravo Bravissimo Bravo Ci pusha uno Troppo attento Straccato Fatto Atterra un altro Atterra uno Col bombard Cercando di salire Arrivo arrivo Oddio quanto laggo Eh mi fa No Madonna che cazzo ho fatto Guarda che magari non mi Si mi ha dato niente Oddio ma che botte era Va rotto eh Che c'è il buco finto Bello due Io ho trovato Un lanciamissili E potere d'arresto Un altro potere d'arresto Ragazzi ve lo pingo Perché Non so su cosa caricarlo Oh C'è uno Mamma mia quanto laggo E qua ragazzi Ve lo fate Ve lo fate La 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 Pingiallo Sei restato uno Dietro di me Quanto questo fa E qui eh Forse è sotto Qua c'è un botto di gente Ragazzi Mi ha centrato in piena Qua c'è uno Ma sotto c'è uno Ma sotto c'è uno Ho rosa ancora Anche due Ma ancora al meglio Ho ucciso uno Mi ha detto Cogliona Atterra uno Atterra uno Atterra uno Ce ne sono due Ce ne sono due Adesso Ce ne sono due Lì sotto Bravo Uno è sceso Uno è sceso Ma come ha fatto Con questo Gavita retta Aiuto Uno dietro Che l'ho visto? Non è vero Forse è qua dietro Sì Cogliona Poco salvato Poco salvato Lì davanti Dall'altra parte Ha scavalcato il coso C'è una sacca di piastre qua ragazzi Se volete Poco due Sì sì È qua Dove c'è il ping blue proprio Tiro una su E pushiamo Vai C'è un altro Poi in fondo Occhio Forse è lo stesso Non lo so Ce ne sono un sacco Sono a terra Due craccati Due craccati a sinistra Ma dai Pettino raga Ma come cazzo Porco due Becca becca Sopravvivi 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 Provo a scendere sotto prison Allora Provo a scendere sotto prison Perché Va bene Chi è che usa la Milano? C'è uno sotto ragazzi Craccato Craccato È andato sotto qua In questa porta Pingata gialla Il tracciante Non lo vedo più Bombarda Bombarda Occhio Bravissimo 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 Uno è qua dietro Qua dietro Ci sta restando Di dietro Di dietro Qua dietro Qua 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 Si chiude qua Ah no Si sta allargando La safe Ma ragazzi Ma che cazzo Vuol dire Ma come fa Vedermi Ho uno sotto Sì 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 Stai fatto No Che cazzo facciamo a farceli Una stunnata È morto quello che là sotto Ma come abbiamo fatto Vincere sta partita Cioè quelli là Se fossero rimasti sopra GG guys Tu lasciando Stai completo Grazie per la win regalata C'è gente di qua io C'è gente di qua Era bravo questo C'è un full team sul tetto Mi sa Aspetta Dai poppy aiutami Sì vabbè è vero Porco Meno male Sì l'ho visto Mortale Arrivo l'altro Arrivo l'altro Arrivo l'altro Mi ha stunnato Ancora lui Kevin No c'è una puzzona Terra Fatto Un altro lì sul tetto eh È il nostro stanzino Pusciamo tutti lo stanzino Pusciamo No atterra un altro sul tetto Sul nostro tetto Atterrato credo Si Un bel bot Fatto Bravo Ok lì 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 c'era una chiesa Occhio lì Occhio lì Occhio Ma cazzo è possibile Questo cosa pensa di fare No non ci credo Ha riuscito davvero Ce l'avevo uno sotto ragazzi Ok ottimo Oh c'è uno qua eh Dove È qua dietro Qua dietro Finitemelo per favore Quello lì è a terra Sparano 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 Da dietro Da dietro Ma che cazzo è successo Mi si era baggato la mia assesità Occhio che stanno pushando eh Stanno pushando su qua Scusami Ho dovuto Allora ti è giù al piano terra No è sul tetto Sì sì abbiamo uno qua a destra subito Un botto di gente Tutti con fantasma Tutti con fantasma questi qua eh Gli ha pingati 800 È one shot è one shot proprio È proprio one hit One hit Secondo restare No Ah no Grazie alla norma Ciao Grazie ANC Uno sul tetto di la torre Attento Attento Provo a farlo con il cecchino Tato quello lì sul tetto di la torre A terra Oh c'è chi no 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 Non so da dove C'è qualcuno che sotto mi sa Confermo sotto Fatta uno Ok Confermato Sono sotto Sono sotto No 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 Armored down Armored down Mamma Sorry sorry Eh sorry tu Tiro Fatto 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 Buono Buono Io ho preso la macchina Oh c'è uno qua proprio Eh mi ha fatto Sono due Sono due occhio Credo siano due Non lo so Sì sì Sono sotto gli altri Vabbè però Alla madonna È un mostro Ma si chiama Era esploso Uno ci si fa Cosa è il cazzo Peccato Ah Gli due Ins Blood Oh parece qui si fame Lo so Sììììììììììììììììììììììììì! Tutti